Ha portato al fermo di 18 persone al sequestro di oltre 300 kg di cocaina. L'operazione è già eseguita tra Calabria, Sicilia e Toscana e condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, sotto la direzione della Procura della Repubblica DDA di Reggio Calabria, contro un'organizzazione criminale di stampo dranghetistico dedita all'importazione di cocaina dal Sud America. L'operazione rappresenta l'epilogo di una complessa attività investigativa che ha consentito di disarticolare un'organizzazione estremamente complessa, composta da soggetti vicini a diversi sodalizi criminali riconducibili alle famiglie Bellocco di Rosarno, Moleppi, Romalli di Gioia Tauro, Avignone di Taurianova e Paviglianiti, quest'ultima attiva sul versante ionico reggino. Le scrupolose indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di dimostrare come i clan calabresi siano in grado di contrattare direttamente con i cartelli sudamericani l'acquisto di grosse partite di stupefacenti. Nel corso dell'operazione i militari hanno sottoposto a sequestro presso il porto di Livorno 300 kg di cocaina e circa 17 kg di codeina, riuscendo poi a ricostruire un'ulteriore importazione di narcotico pari a 57 kg di cocaina, oltre ai numerosi altri tentativi di importazione non andati a buon fine. Ma la consorteria non si limitava alla sola redditizia cocaina. Le indagini hanno provato infatti come i sodali riuscivano ad ottenere lauti guadagni anche dalla compravendita di importanti partite di marijuana e hashish. L'operazione antidroga ha dimostrato come i trafficanti calabresi ricevano disponibilità liquide anche da soggetti insospettabili quali commercianti e professionisti che non disdegnavano di fare affari mediante l'acquisto all'ingrosso della cocaina. L'inchiesta ha così consentito di identificare complessivamente 32 soggetti ognuno con un ruolo ben preciso, dai finanziatori ai mediatori a coloro che avevano il compito di ospitare gli emissari dei narcos a colombiani più volte giunti nel nostro paese. L'interoperazione ha permesso di infliggere all'organizzazione delinquenziale rilevanti perdite economiche sia sotto il profilo dei capitali investiti che dei mancati guadagni. La droga complessivamente sequestrata una volta lavorata ed immessa sul mercato avrebbe fruttato all'organizzazione oltre 100 milioni di euro una volta raggiunte le piazze dello spaccio.